Droga, prostituzione, rapine, furti, armi e tanto altro ancora. Ha coinvolto anche Piacenza la maxioperazione coordinata dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, denominata Alto Impatto, che ha portato all'arresto di 64 persone per rapina, ricettazione, violazione delle norme concernenti le armi da fuoco, furto, reati in materia di stupefacenti e per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Sono state anche denunciate in stato di libertà altre 60 persone di diverse nazionalità. Inoltre sono state eseguite 78 perquisizioni, sequestrati circa 5 chili di stupefacenti pronti in dosi da smerciare sulle varie piazze, un fucile illegalmente detenuto, 4 pistole, delle quali una usata per un tentativo di omicidio, oltre a circa 300 cartucce, diversi anersi per lo scasso e diversi coltelli a serramanico. Le province interessate sono oltre a Piacenza, Novara, Verona, Imperia, Latina, Ravenna, Pescara, Caserta, Ragusa, Vibo, Valencia e Sassari.